Siamo una delle poche città in Sicilia che ha raggiunto il 50% della raccolta differenziata. È una delle città più pulite perché c'è una differenza totale, perché anche da noi nel Palermitano ci sono i problemi della munnizza a primo piano, come si dice e come ho visto anche in alcune zone messinese. E poi la cosa importante è che noi asseguiamo questo servizio ai nostri cittadini garantendo una tasso molto bassa. Noi siamo fra le 10 città più economiche d'Italia, noi facciamo pagare i nostri cittadini 1,57 metro quadro, che sarebbero 157 euro per 100 metri quadri. E quindi chiaramente il grado di consenso, di partecipazione dei nostri concittadini è alto perché hanno una città politica, esteticamente accogliente, un servizio efficiente e pagano pochi soldi, che in questo momento di crisi economico non è una cosa trascurabile. È un problema di fondi e che tempi ci vogliono per raggiungere risultati così virtuosi? Io ho iniziato nel 2009, sono tre anni che ci manteniamo per tre anni al 50%. Io non credo che sia un problema di fondi, i soldi sono l'unica cosa che non manca. Io credo che l'errore che si è fatto in Sicilia è che non si è affrontato il settore rifiuto come quello che è un settore industriale. Quindi ci vuole un piano industriale, ci vogliono manager, gente competente. Invece in Sicilia sfortunatamente è stato gestito in maniera assolutamente inadeguata, perché fino a qualche anno fa i consigli di amministrazione del lato erano pieni di politici trombati dalle elezioni che venivano riciclati a 5.000-6.000 euro al mese nei consigli di amministrazione senza sapere dove mettere le mani. Hanno causato un debito enorme. Non avendo queste competenze manageriali, il settore rifiuti è un settore molto tecnico, molto specifico. Io vengo dalla Toscana, ho visitato Montespertoli con la presenza del Consiglio, lì addirittura sono arrivati un consorzio così come Messina Ambiente, un consorzio pubblico, sono arrivati all'85% di raccolta differenziata e anche lì facendo pagare pochissime i propri concittadini. Quindi sono delle cose iniziative che sono presenti in Italia, ma io ho dimostrato che anche in Sicilia, perché Alcamo appunto non è Bolzano, ma è a pochi chilometri da qua, è sicuramente realizzabile. Ci vuole impegno, serietà.